Ben ritrovati con l'informazione di TV6. In apertura il bollettino Covid. Sono 28 i nuovi casi positivi in Abruzzo, con un nuovo decesso nelle ultime 24 ore, mentre continua a crescere il numero dei guariti. Vediamo. Si mantiene sugli standard da zona bianca il numero dei nuovi positivi giornalieri in Abruzzo. Rispetto a ieri si registrano solo 28 casi, aventi una fascia di età compresa tra 4 mesi e 72 anni. Le nuove positività sono il risultato di 4.489 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta allo 0,6%. Così dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione il numero dei positivi raggiunge quota 74.496. I nuovi casi fanno riferimento 11 alla provincia di Teramo, 9 a quella dell'Aquila, 3 alla provincia di Chieti, 1 a quella di Pescara. Un caso fa riferimento a persone fuori regione, mentre per due unità sono in corso verifiche sulla provenienza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70.616 dimessi guariti, più 122 rispetto a ieri. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni scende a 65, meno 6 rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Quattro, invariato rispetto a ieri, con zero nuovi ingressi in terapia intensiva. Mentre gli altri 1.308, meno 90 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.503. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.377, meno 96 rispetto a ieri. Ed oggi era in programma la riunione della Commissione Sanità che all'ordine del giorno prevedeva per la seconda volta la discussione sul riordino della rete ospedaliera. Il tutto però dopo pochi minuti dall'avvio della seduta si è concluso con un nulla di fatto. La Commissione Salute di quest'oggi, dichiarano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, rappresenta l'ultima prova della chiara volontà di rinunciare al dialogo e al confronto di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Oggi volevamo confrontarci sulla mobilità sanitaria passiva e sugli investimenti già disponibili per quanto riguarda gli ospedali, così detti minori. E invece la destra abruzzese rimedia un'altra figuraccia che dimostra ancora una volta la totale inadeguatezza del Governo regionale sulla sanità. Il commento che arriva dai consiglieri del Partito Democratico. Un'occasione per tutte le forze politiche di dare il proprio fattivo contributo affinché il provvedimento fosse il più possibile condiviso. Dice il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febo. Purtroppo però ancora una volta l'intento scellerato di una parte delle opposizioni si è rivelato solo quello di creare confusione, costringendo il Presidente Quaglieri a sospendere la seduta. E noi andiamo a sentire proprio le dichiarazioni del Presidente della Quinta Commissione, Mario Quaglieri. Oggi si era riunita la Commissione Sanità per quanto riguarda la nuova rete ospedaliera in un confronto preliminare di una bozza che verteva ad un confronto onesto e trasparente con le minoranze. Questo purtroppo non è stato possibile per l'atteggiamento di alcuni consiglieri di minoranza che sono venuti in maniera pretestuosa e ostruzionistica a questa discussione che doveva essere preliminare al progetto di legge. Ciò non è avvenuto e quindi la Commissione è saltata per decisione della maggioranza che andrà dritta per la propria strada, quindi per fornire una sanità migliore ai cittadini abruzzesi. In provincia di Teramo è iniziata la vaccinazione di massa ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni. La ASL di Teramo ha stretto un accordo con i pediatri che possono somministrare il vaccino nei propri studi professionali. Intanto si può tornare a fare visita ai malati in ospedale rispettando però stretti protocolli di sicurezza. Tania Bonnici Castelli. Alvia le vaccinazioni ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni. L'ASL di Teramo ha raggiunto l'accordo con i pediatri di libera scelta per l'esecuzione dei vaccini sui pazienti più giovani. Le vaccinazioni saranno eseguite dai pediatri nei propri studi professionali o negli hub vaccinali aziendali. Le famiglie dei ragazzi che vogliono aderire alla campagna devono prendere contatto direttamente con il proprio pediatra di fiducia. Un'accelerazione dovuta al fatto che nell'ultimo mese la maggior parte dei soggetti sottoposti a sorveglianza epidemiologica, poiché entrata in contatto con coetanei positivi, appartiene alle fasce più giovani e in particolar modo a quella adolescenziale. La vaccinazione degli adolescenti rappresenta uno dei più importanti presidi preventivi in vista della riapertura delle scuole a settembre. Intanto sono riprese le visite ai pazienti ricoverati nei quattro ospedali teramani in applicazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale Marsilio del 9 giugno. Gli accessi dei familiari, secondo quanto predispone l'ordinanza, saranno programmati nell'arco della giornata in modo da evitare assembramenti. L'ordinanza prevede la nomina di un responsabile Covid per ogni reparto, a cui i familiari devono presentare richiesta entro le 48 ore precedenti dalla data della visita. L'ingresso di norma è previsto per non più di un visitatore addeggente. In caso di paziente Covid positivo, l'accesso dei visitatori nella stanza in isolamento è previsto solo in caso in cui il malato sia minorenne o in forte pericolo di vita. Ovviamente l'accesso negli ospedali è sottoposto ad una serie di misure di sicurezza per garantire la salute di tutti, tenendo presente che l'emergenza Covid non è finita. Quattro nuovi reparti vanno ad arricchire l'offerta dell'ospedale di Giulianova, che però in base al piano regionale di riordino della rete ospedaliera rimarrà uno socomio di base. Nel Terramano l'unico ad essere di primo livello è quello del capoluogo. Che rimarrà tale, bisogna lottare per ottenere un hub di secondo livello, ha dichiarato il direttore generale della ASV di Giosia, Giuseppe Vintino. L'ospedale di primo livello a Giulianova non ci può essere perché significherebbe chiudere l'ospedale di Sant'Omero e l'ospedale di Atri. E siccome noi abbiamo in mente un territorio e non una sola città, comprendete bene che è meglio avere un ospedale su Giulianova con delle eccellenze non solo provinciali ma regionali e avere anche altre due strutture che possono fare benissimo il loro lavoro fermando la mobilità passiva. Il nosocomio di Giulianova rimarrà un ospedale di base. Nel piano di riordino della rete ospedaliera non è prevista la promozione a nosocomio di primo livello. In tutta la provincia di Terramo l'unico presidio sanitario con questo titolo rimane quello del capoluogo. C'è mettere un ospedale di livello qui che comporta avere la neurologia, altri reparti che non si trovano neanche i medici, la pediatria, ci va il punto nascita. Cioè sarebbe, come possiamo dire, diventa anche difficoltoso gestirlo dal punto di vista economico e di medici, di professionisti e di personale. Il sindaco comunque festeggia la giunta di quattro nuovi reparti. Nell'ospedale che serve un bacino d'utenza di circa 80.000 persone che d'estate però diventano anche 600.000. Adesso Giulianova non solo avrà delle eccellenze, quindi dei reparti che saranno presenti solo a Giulianova nell'intera offerta regionale. Ma vedremo la ristrutturazione di tutti e due i padiglioni, vedremo l'apertura di ben quattro nuovi reparti e per la prima volta le intelligenze che arrivano al mondo universitario saranno presenti all'interno della nostra struttura. Inoltre nel piano della regione non è previsto il potenziamento del Mazzini di Terramo, che non diventerà un hub di secondo livello. Siamo l'unica provincia abruzzese a non avere la terapia intensiva neonatale, ha dichiarato il numero uno della ASL. Dobbiamo lottare per un dia di secondo livello. Terramo lo merita a tutto, manca solo la TIN, manca qualcosa di piccolo. Noi lo chiederemo a gran voce adesso e soprattutto abbiamo dovuto creare quella rete, quella sinergia indispensabile per far vivere il territorio provinciale di tutti gli altri presidi. Insomma nel piano nessuna promozione per i presidi del Terramano. Ci stiamo lavorando, ha detto Luigi Derramo, coordinatore regionale del partito che guida l'assessorato alla sanità. Credo che l'assessore Veril, il dottor Pierluigi Cosenza e il direttore Maurizio Di Giosia abbiano esattamente compreso che tipo di percorso anche nel confronto debbano portare avanti. Quindi sono molto fiducioso ma soprattutto sono felice perché finalmente è terminata l'epoca buia dei tagli, del depotenziamento e della mancanza totale di ascolto. Due fratelli pescaresi ritenuti responsabili dell'aggressione ai danni di un giovane lo scorso 31 maggio a Pescara sono stati destinatari di due daspo Willy. I provvedimenti sono stati illustrati questa mattina dal questore nel corso di una conferenza stampa. Paolo Renzetti. Individuati responsabili dell'aggressione commessa il 31 maggio scorso ai danni di un ragazzo refertato poi in ospedale con 30 giorni di prognosi nei pressi di uno stabilimento balneare sul lungomare di Pescara al termine di un'approfondita attività di indagine portata a termine dagli agenti della divisione di polizia anticrimine della questura di Pescara. Il questore Luigi Liguori ha disposto la misura di prevenzione del daspo Willy nei confronti di due fratelli pescaresi. Noi siamo di questo avviso di dare questo segnale preciso affinché la nostra estate prosegua e abbia inizio e prosegua nella massima tranquillità ma con un dispositivo di sicurezza che viene calibrato di volta in volta è necessario accontenere questi episodi, anche gli altri episodi di cui ho parlato prima di lite tra ragazzi o di accampare e la gestione di un campo di calcio con la violenza sono cose che assolutamente non vanno tollerate e saremo intransigenti. Non uso quel termine tolleranza zero perché è stato mutuato una ventina di anni fa da altri sindaci o altre autorità di polizia. Anche le sanzioni Covid sono fortemente diminuite, nonché perché nelle ultime tre settimane ne abbiamo 48, l'ultima settimana nessuno. Noi stiamo tenendo conto di quello che è la realtà della città, i cittadini devono tenere conto però dei compiti di polizia. Potrebbe essersi tolto la vita l'uomo il cui corpo ieri sera è stato trovato sulla superficie di un laghetto artificiale di una frazione di Morodoro. Sembra questa l'ipotesi più accreditata dagli investigatori in attesa dell'esito dell'autopsia. Vediamo. Sarà l'autopsia a dare elementi ancora più utili per chiarire il mistero che avvolge il ritrovamento di un cadavere avvenuto ieri sera in prossimità del laghetto artificiale di Piano de Cesare, frazione del comune di Morodoro, al confine con quello di Notaresco. Il corpo dovrebbe essere di un 63enne proprio di Notaresco, scomparso nel pomeriggio di ieri. La sua vettura è stata trovata nelle vicinanze del laghetto. All'interno sono state rinvenute delle macchie di sangue. Proprio per questo al momento non viene esclusa alcuna pista da una colluttazione al suicidio. Ipotesi quest'ultima che sembra quella più accreditata dagli investigatori. Le macchie potrebbero essere dovute ad un primo tentativo non riuscito di togliersi la vita prima di buttarsi nel lago. Dopo il ritrovamento della vettura, nella serata di ieri sono entrate in azione una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi e un'altra del nucleo sommozzatori presso lo stesso distaccamento. Le ricerche si sono concentrate sulla superficie del lago artificiale di circa 5.000 m2 e sono state agevolate dall'impiego di una colonna di fari inviata sul posto dal comando dei vigili del fuoco di Teramo per illuminare l'area dell'intervento. Intorno alle 22.30 i vigili del fuoco hanno individuato il corpo dell'uomo a fiorare sulla superficie dello specchio d'acqua. Subito dopo i sommozzatori hanno provveduto a recuperarlo e portarlo sulla riva dove è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto, oltre ai carabinieri di notaresco, era presente anche il PMI di turno, Davide Rosati. In riferimento ai fatti giudiziari accaduti dopo il disastro della funivia del Mottarone, l'Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto uno sciopero generale per il prossimo 24 e 25 giugno. Questa astensione riguarderà molti degli avvocati coinvolti nel procedimento rigopiano che per forza di cose sarà ancora una volta rinviato per la dodicesima volta in due anni. Quella di venerdì prossimo poteva essere una giornata chiave per quanto riguarda le sorti del processo, che vede interessati quasi 250 tra imputati, parti civili ed avvocati ed invece ora si potrebbe correre il rischio di arrivare addirittura a dopo le farie estive per l'avvio delle discussioni. Per evitare che questo non accada, l'avvocato Romolo Reboa ha presentato istanza al Presidente del Tribunale di Pescara per far sì che si possa trovare sin da ora una nuova data anche a distanza di una settimana, così da consentire un regolare e celere svolgimento del processo. E proseguiamo con il nostro telegiornale. Le Gambiente e WWF hanno presentato questa mattina a Pescara le loro osservazioni alla valutazione ambientale del PRG del Comune di Ortona e parlato dello sviluppo sostenibile della costa dei Trabocchi. Vediamo. Le Gambiente e WWF Abruzzo e la sessione locale del WWF Zona Frentana e Costa Teatina hanno presentato le loro osservazioni al rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica relativa alla proposta di un nuovo piano regolatore del Comune di Ortona. Le associazioni giudicano questo rapporto deficitario e da integrare sia con dati aggiornati che con ulteriori indagini ambientali ne sollecitano inoltre il necessario allineamento e adeguamento ai PAN delle aree protette presenti nel territorio e a tutti gli strumenti sovraordinati, compreso il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 del 2007. Siamo partiti da Ortona perché il problema non è solo Ortona, il problema è l'intera gestione della costa dei Trabocchi che a nostro avviso deve avere degli elementi di sostenibilità. È paradossale che ogni volta che noi dobbiamo allineare gli strumenti di gestione del territorio ad elementi sovraordinati, parliamo di piani di resilienza, di piani energetici, parliamo dello stesso parco della costa di Atina come parliamo della stessa via verde. Nel momento in cui comuni, regioni e province devono fare quadrato per un sviluppo sostenibile della costa noi incorriamo in queste criticità, ovvero nella rincorsa di progetti ormai superati e rischiamo che mettiamo in campo azioni che non sono rispondenti al piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi di perdere anche i finanziamenti che vanno in quella direzione. Non c'è più tempo per piani regolatori stravecchi e cotti, dobbiamo andare nella direzione della sostenibilità e dobbiamo finalmente mettere in piedi un'azione che tuteli veramente il consumo di suolo a zero. Quello che abbiamo chiesto a chi ha redatto il rapporto ambientale per il piano regolatore del comune e il comune stesso è essenzialmente un'attenzione rispetto alla nuova programmazione del territorio. Tutti i piani di ripresa ci chiedono un consumo di suolo zero e ci chiedono un'attenzione alla conservazione della biodiversità. Quello che manca nel rapporto ambientale è una visione sul sistema ambiente, quindi uno studio fatto anche di indici che spieghino come questi interventi vadano a interferire con la connettività ecologica del territorio e vadano ulteriormente a frammentare gli habitat naturali presenti. Ricordiamo che sulla spiaggia di Ortona tra il Foro e l'Arielli c'è una delle stazioni più importanti, più grandi di presenza e dignificazione del fratino che è una specie protetta e che perdere questa popolazione sarebbe un danno per tutta la regione Abruzzo. Riconoscimenti al personale sanitario che si è distinto nella lotta al Covid sono stati consegnati domenica a Pescara nel corso dell'edizione 2021 del premio Medicina Abruzzo. È intervenuto anche il primario di rianimazione dell'ospedale dell'Aquila, Franco Marinangeli, che ha parlato della durissima battaglia contro il virus. Vediamo. personale medico e paramedico attenzionato nella tredicesima edizione del premio Medicina Abruzzo nella sala Domenico Tinozzi della provincia di Pescara. Siamo con il primario della San Salvatore dell'Aquila, reparto di anestesia, Franco Marinangeli. Ecco intanto un giudizio su questa iniziativa che vuole attenzionare tutti coloro che davvero hanno fatto i salti mortali per cercare di dare il proprio contributo. Un'iniziativa lodevole, semplicemente lodevole perché specialmente alla fine, speriamo, di questa seconda o seconda, terza ondata, seconda dei punti di vista, in realtà è fondamentale anche fare un debriefing di quanto accaduto e quindi andare a sottolineare quanto di buono è stato fatto in questi 15 mesi di pandemia, a mio avviso è molto importante. Per mettere in evidenza gli aspetti positivi ma anche per sottolineare magari quelle criticità che se attentamente valutate ci possono permettere di costruire un sistema sanitario regionale migliore. Oggi con i vaccini tutto è diventato più semplice, ma quali sono stati i momenti più brutti, più tristi secondo lei? Quelli in cui non c'erano i vaccini, quelli in cui praticamente la guerra era tra il virus e fondamentalmente i pazienti e noi sanitari, quelli in cui mancavano uomini e mezzi. Oggi, come dice lei, è tutto cambiato grazie al vaccino e la strada è in discesa, ma abbiamo visto veramente momenti bui, probabilmente nel mese di ottobre-novembre del scorso anno quando è ripartita un'ondata che era inaspettata, come sappiamo, e di fronte alla quale, credetemi, veramente la lotta è sembrata impari. Tenga conto che all'Aquila, dove io lavoro, questa seconda ondata, ha avuto un fattore di moltiplicatore di 5.5 rispetto alla prima, cioè abbiamo gestito solo in terapia intensiva quasi oltre 160 pazienti, a fronte dei 30 che abbiamo gestito la prima ondata, quindi una situazione completamente diversa. Quindi quello è stato il momento probabilmente in cui siamo resi conto che le cose potevano volgere veramente male. Rinvio della discussione, parere da chiedere all'autorità, anticorruzione. Questo quanto accaduto stamattina nel Consiglio Comunale a Teramo, che doveva discutere nell'approvazione del PEF sullo stadio Bonolis. Maggioranza che sembrava non avesse i numeri per dare l'ok definitivo al provvedimento. Anja Cantagalli. Sindaco, le mallingue dicono che oggi siamo andati a rinvio perché la maggioranza non aveva i numeri, lei cosa risponde? Basta guardare chi c'era in maggioranza questa mattina per vedere che i numeri c'erano, le mallingue fanno parte del gioco ma vengono smentite dai fatti. Io credo invece che oggi l'amministrazione, la maggioranza insieme ad un'opposizione responsabile abbiano dato prova di sensibilità istituzionale, di rilevanza anche dell'attività del Consiglio, cercando di fare un passaggio condiviso, un ulteriore momento di confronto su una delibera così importante per la città, quindi a fronte di questa richiesta come Sindaco non ho potuto che accoglierla, accoglierla con grande rispetto per le posizioni di tutti i consiglieri comunali, di opposizione, di maggioranza e credo che sia un passaggio importante anche per la solidità di una concessione che sappiamo essere importante, una richiesta importante su cui c'è stato un primo confronto tra l'amministrazione e il proponente e su cui adesso il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi in piena autonomia, libertà e consapevolezza, ecco perché questi passaggi sono utili, avremmo potuto forzare con una prova muscolare a provare a maggioranza questo provvedimento, abbiamo deciso insieme, in una buona conferenza di capigruppo coordinata dal Presidente, con un'opposizione responsabile e costruttiva. Riaprono oggi a Chieti i musei La Civitella e Villa Frigeri, grande la soddisfazione dell'amministrazione comunale, vediamo. Sindaco, una grande notizia, oggi riaprono i musei a Chieti, La Civitella e Villa Frigeri, tornano a nuova vita, gli splendori della città di Chieti? Una grande notizia e una grande gioia, ovviamente era da tempo che aspettavamo questo momento e tenere chiuse le nostre bellezze, tenere chiusi i nostri musei per tanto tempo è stato un vulnus per la nostra città, ovviamente la mia amministrazione ha pensato a utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza, i quali si sono prestati molto bene a questo nuovo compito e possiamo ridare alla città, ma soprattutto ai turisti che già comincio a vedere numerosi passeggiare nella nostra città, la fruizione di bellezze architettoniche, museali e archeologiche che probabilmente poche città hanno in Italia. I nostri due musei archeologici nazionali riaprono al pubblico grazie a un intervento determinante in sinergia con la direzione dei musei del Comune, dell'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione 12 unità PUC a supporto del personale museale. Si uniscono queste due riaperture a quanto già fatto da parte del Comune con il Museo Barbella che è già aperto da diverse settimane e quindi torna alla piena fruizione il nostro patrimonio museale. Stiamo lavorando a delle iniziative estive in sinergia con le associazioni culturali del territorio, con gli artisti locali, ma con un trio di direttori artistici molto autorevole che è il composto dal maestro Pellegrino, il maestro Mazzoccante e il maestro Michele Di Toro. Stiamo lavorando a questa programmazione che nei prossimi giorni verrà presentata alla città. L'Università di Teramo si arricchisce di un nuovo corso di laurea a orientamento professionale a sostegno di un'agricoltura moderna e di qualità. Il ciclo di studi ha come obiettivo quello di formare figure professionali in grado di conoscere e gestire le intensificazioni delle produzioni ortofrutticole. Vediamo. Al via il nuovo corso di laurea all'Università di Teramo in intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità. L'innovativo ciclo di studi della Facoltà di Bioscienze, Tecnologie Agroalimentari e Ambientali va ad arricchire l'offerta formativa dell'Ateneo Teramano nel campo della sostenibilità. Va a coprire un ambito professionale che fino ad ora era abbastanza scoperto sia nella regione ma soprattutto una produzione intensiva sostenibile che è qualcosa che sia a livello di ONU, di Agenda 2030, ambiti in cui noi siamo coinvolti sia nella diffusione che nell'educazione, nella ricerca e sviluppo, è sicuramente un ambito sia a livello territoriale ma a livello internazionale molto molto sentito. È un corso di laurea che nasce dall'analisi del contesto produttivo ortofrutticolo regionale, nazionale e globale. Attualmente i fenomeni di intensificazione delle produzioni agricole e la digitalizzazione dei sistemi agroindustriali richiedono infatti nuove figure professionali dedicate alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione delle risorse agrarie. Gran parte del percorso, quindi circa un terzo, viene svolto presso le aziende, quindi con un approccio professionalizzante proprio per preparare direttamente al lavoro i ragazzi già dal terzo anno, quindi anche con la laurea. È un corso di laurea che rafforza l'offerta formativa sostenibile dell'Università di Termo, quindi il termine sostenibilità è presente anche nel titolo e completa per quanto riguarda bioscienze, proprio l'offerta formativa nel settore agroalimentare andando a coprire le produzioni primarie, quindi proprio l'agraria, l'agronomia che non era ancora rappresentata adeguatamente all'interno del panorama formativo della nostra Università. Questa laurea a orientamento professionale non prevede come sbocco il proseguimento degli studi in un corso di laurea magistrale, ma come obiettivo prioritario il rapido inserimento nel mondo del lavoro. Penultima giornata di campionato domani nel Girone F di Serie D con lo scontro a Bruzzese tra Notaresco e Giulianova. Trasferta fondamentale per il Pineto, mentre in eccellenza il Chieti ha una seconda chance di promozione. A Capistrello, Jacopo Forcella. Ultimo mercoledì di campionato, quello di domani in Serie D, prima del Rush finale di sabato con la 34esima giornata anticipata di un giorno. Tranne due match che riguardano formazione abruzzesi e che si giocano di lunedì per permettere i recuperi nella giornata di venerdì. Ma tornando al turno di domani, scontro tutto a Bruzzese e al Savini di Notaresco con il Rosso Blu che dopo il 4-4 di domenica a Reganatica, dato il via libera alla promozione del campo basso in Serie C, se la vedranno con il Giulianova, reduce da un altro X scoppiettante, quello interno del Fadini contro il Matese. Rosso Blu senza l'infortunato Banega, suscito anzitempo al Tubaldi e senza lo squalificato Marchionni, espulso nel finale di gara ma con la certezza a 180 minuti dal termine di avere in tasca la seconda posizione in classifica. Dall'altra parte un Giulianova salvo e tranquillo che come accaduto due giorni fa potrà dare spazio anche ad altri giovani dell'organico. anche quando le cose sono andate male c'era sempre una consapevolezza in noi tecnici e in me, la consapevolezza di potercela fare sempre comunque. È chiaro che addirittura all'inizio c'era anche la possibilità di non fare per distanziamento, per distanziamento addirittura di fare il pre-out, per cui è stato fatto un lavoro ottimale proprio perché ci siamo avvicinati sempre di più alla terz'ultima e quindi abbiamo ridotto lo svantaggio che quantomeno ci consentiva di fare il pre-out. Però noi prima della sentenza venivamo, come dicevo prima, a tre vittorie consecutive per cui eravamo in crescente. Trasferta molto insidiosa per il Pineto che deve centrare un risultato positivo contro il Matese perché la sconfitta di domenica in casa col Castelfidardo obbliga l'undici di Marco Pomante in chiave play-off ad uscire almeno indenne dall'impianto campano per non doversi giocare tutto nei 90 minuti conclusivi che sarebbero comunque col campo basso già promosso in C. Tenere a distanza proprio il Castelfidardo, sesto e prima delle escluse dai play-off, ma impegnato contro l'Agnonese penultima è l'imperativo per la formazione bianca-azzurra. Chi invece se la vedrà col fanalino di coda è la Vastese all'Aragona contro l'atletico Porto Sant'Elpidio. Impegno non impossibile per i biancorossi di D'Addario, ma i marchigiani domenica contro il Castelnuovo hanno dimostrato nuovamente di essere allo stato attuale formazione che benché retrocessa vende cara la pelle. Vastese che dopo la doppietta di Martigniello con relativo successo a Tolentino confermano un finale di torneo in assoluto crescendo. Ultimo impegno interno invece per il Castelnuovo che poi avrà due trasferte in pochi giorni. I neroverdi di Guido Di Fabio se la vedranno col Rieti senza Terrenzio, ancora out per squalifica, ma ritrovando davanti i fagioli. Poi, come è accaduto anche la scorsa settimana, spazio all'ultimo recupero, quello del Tubaldi contro la Recanatesi di venerdì che farà slittare l'ultima di campionato a Giulianova, altra trasferta a lunedì. Così come nello stesso giorno chiuderanno Recanatesi e Vastese sempre nell'impianto leopardiano. Chi invece domani potrebbe raggiungere la quarta serie nazionale è il Cheti che vincendo a Capistrello tornerebbe in Serie D dopo aver mancato il primo match ball di domenica all'Angelini contro l'Avezzano. Calcio a 5 femminile, il Montesilvano ha fallito il match point casalingo e ieri sera è stato battuto, 1-3 da Falconara. Lo scudetto dunque si assegnerà nella bella in programma domenica in terra marchigiana. Sergio Zappalorto. A un soffio del terzo titolo il Montesilvano sciupa tutto in casa propria, al termine di un match dalle tante occasioni barra emozioni, vinto da un Falconara più organizzato, più determinato, più travolgente nel ritmo che alla fine ha meritato spostando il tricolore a gara 3 domenica prossima in terra marchigiana. Senza dubbio il ripescaggio in extremist e la fuoriclasse Tati, che pure non era, non poteva esserlo nella migliore condizione, ha gasato squadre e tifosi spingendo le ospiti per l'intera gara che ha visto brillare la stella Dalmaz, autrice di una splendida tripletta che ha sancito il 3-1 conclusivo. A nulla è servito il momentaneo pari della Sciascio su una magistrale esecuzione da fermo. La partita vive di equilibrio iniziale, con un Montesilvano che sembra ingiornata, trascinato da Amparo Show e protetto dalla solita sestare i tre pali, un alternarsi di opportunità che al sedicesimo trova l'1-0 della citata Raffaela, bomba imprendibile. Tibiase para tutto ed esalta un Falconara che potrebbe arrotondare in coda con un tiro libero della Pereira, ma Carolina dice di no. E in avvio di ripresa, appena 30 secondi, l'albanesa Ida Sciascio realizza il mirabile pari. Non solo, gli abruzzesi trovano il momento buono e non sono neppure fortunate. Palo pieno di Bruna, assedio reiterato che non dà frutti. Poi però sale in cattedra il quintetto di Neri, che al terzo va sul 2-1, sempre con Dalmaz, servito dalla Luciani. Poi all'undicesimo ancora Dalmaz che ringrazia il pasticcio difensivo delle locali. Generose fino alla fine, ma inutilmente. Ascoltiamo l'avvenito tecnico Gonzalo. Sì, diciamo che loro sono la squadra più forte, lo sappiamo. Abbiamo giocato bene lì, siamo riusciti a portare il risultato qui. Secondo me abbiamo giocato bene, in una finale, loro sono fortissime, quindi ci sta. Abbiamo pagato qualche errore che abbiamo concesso, loro hanno segnato, loro ci hanno concesso qualche cosa, noi no. Quindi questi sono i dettagli che fanno differenza, sono gli episodi che dovevano cambiare la partita. Quindi andiamo a casa 3. Meglio il primo tempo rispetto alla ripresa, un primo tempo dove la squadra era comunque forse anche più concentrata, più determinata. È mancato il guizzo vincente, cosa che di solito le tue bocche da fuoco indovinano. Stasera molti balloni sciupati. Sì, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto molto bene, il portiere loro ha fatto delle parate molto belle, quindi ci sta, una finale ci sta. Purtroppo dobbiamo ricominciare, bravissimo, grazie, ricominciare per andare a gara 3 al meglio. Gonzalo, ultima battuta su gara 3 che si giocherà il 20 giugno prossimo, cioè domenica. La squadra comunque, se trova la giornata giusta come era in gara 1, ce la può fare lo stesso perché siete una grande squadra anche voi. Sì, sì, io ho fiducia nelle ragazze, quindi niente, andiamo a gara 3 a giocarci. E il nostro telegiornale termina qui, da parte mia l'agurio di un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie a tutti.